Al Cristo che oggi entra nella Passione, e alla Vergine Santa affidiamo le vittime dell'attentato terroristico avvenuto venerdì scorso a Stoccolma, come anche quanti sono ancora duramente provati dalla guerra sciagura dell'umanità. E anche l'attentato di quello compiuto purtroppo oggi, questa mattina al Cairo, in una Chiesa copta. Al mio caro fratello, Sua Santità, Papa Tawadro II, alla Chiesa cotta e a tutta la cara nazione egiziana, esprimo il mio profondo condoglio. Prego per i defunti e per i feriti. Sono vicino ai familiari e all'intera comunità. Il Signore converta i cuori delle persone che seminano terrore, violenza e morte e anche il cuore di quelli che fanno e trafficano le armi.